Il Signore è buono e grande nell'amore. Sono le parole del sacerdote dioniano, padre Mario del Grosso, durante la messa celebrata ieri nel santuario del Santissimo Salvatore di Andrea e trasmessa nella lingua dei segni. Sentiamo. Il Signore è buono, è grande nell'amore. E se noi non siamo buoni, se noi abbiamo i nostri peccati, e allora Egli ci condanna. Quanto è lontano l'Oriente dall'Occidente, quindi all'estremo più estremo, più lontano, così Egli allontana tutte le nostre colpe. Nel Vangelo continua questo discorso bello. Gesù, come ultima frase del Vangelo, sentite che cosa ci ha detto. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Perfetto vuol dire che non c'è niente che non è buono dentro di noi. Non lo porti al malvagio. Se sei una persona cattiva, non è che gli vai davanti già con il forcone, avvicinati a me, ti sistemo io. Con serenità e con bontà. Perché solo l'amore può vincere il male. Non è la forza. Non sono le bombe. Non sono i tribunali che vincono il male. Dice, se uno ti dà uno schiaffo, non ti ribellare. Porgi anche l'altra guancia. Ma non perché sei stupido, ma perché tu speri attraverso la tua pazienza. Tu devi sperare e pregare perché la persona cattiva possa cambiare il suo modo di fare. Grazie. Grazie.